Attenzione, siamo pronti. Motore, partito. Action. Un attimo di attenzione ragazzi, per favore. A causa della crisi sono andato in fallimento. Un attimo di attenzione ragazzi, si un minuto. Un ceva Doamne cu mine, sa semplirea o campibile. Hai Adriane, sa pana mine terminim glocul. Speri te nascătoare, salta nascătoare. Speri te, firma, com desi dali. Vede, 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 vede! Eeeeh, sette due prima. Sono buone le movimente. Che proste. Che costruză, ce le candele, vede, vede... Non, dore, vede, 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 vede. Vede, 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 vede... ...nice, pe ori, vede, vede... ...nice, pe ori, pe ori... ...nice, pe ori, pe ori... ...as o fru-ra. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info F�술 gratuito è la vostre macchina Il libro fino ad ora passi, non so? Mai anemati, non? Faci il libro fino al musterpone! Dari, che filmati di oggi? Questo è tutto! Cosa è di a ea? Più è in fronte. Hai razzare? Ma è questo! Ma è questo! No è questo! Non lo questo è un video! Cosa cosa? N hai già tutto! 13,1 prima. 13? Sì, dietro vicino. E' caro, vicino. Venga. E' meno dietro, guarda. Che fai? Che fai? Che fai? 13, scusa no, 00, 01, 37, 10, no? Il time code. 41, 00, 01, 41, 00. 41? Dai, andiamo avanti. Action! Sì, cè 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 cè? Sì, cè 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 cè. Sì, cè 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 cè. Da? Da. Si. Opreste la colo si zice replica când s-a oprit cea mai... Ați vrut sănă la coloștă sigur? Cam aici te aduce pe serial. Sì, cè cè cè? Cuidau, ce l'estor, con mi amame. Uancy! Ehhh! stupida, ti vede che non hai letto niente nella tua vita, è una legenda. Non hai letto niente in mea, non hai letto niente nella tua vita? Non hai letto niente nella tua vita e il cuore dei mei e la tua vita. Non hai letto niente nella tua vita. Cosa da, non hai letto niente nella tua vita, è un cuore dei mei. 3-4 metri Grazie per la visione Grazie per la visione